L'impiego dei finanziamenti pubblici erogati dalla Regione Molise a favore delle aziende editoriali attraverso la legge 11 del 2015 sarà oggetto di un'accurata operazione di controllo. Per raggiungere questo obiettivo, a tutela dei professionisti e degli editori, l'Ordine dei giornalisti del Molise ha firmato apposite convenzioni con l'Ordine dei consulenti del lavoro di Campobasso e l'Ordine dei dottori commercialisti di Isernia, che sono state presentate ieri pomeriggio nella sede del Corecom. Due ordini professionali, i consulenti del lavoro di Campobasso e i dottori commercialisti di Isernia, qui abbiamo anche diviso e a breve anche l'Ordine degli Avvocati, ci daranno una mano per la legge per l'editoria, che è una legge che dà contributi agli editori e quindi di conseguenza ai giornalisti e a tutto il comparto dell'editoria. Ce n'era bisogno, punto sulla trasparenza, sull'efficienza, sugli ordini in rete, una garanzia per noi ma anche per gli editori stessi. Le verifiche riguarderanno le spese per il personale, se ad esempio i contratti sono a norma, e quelle generali. Prenderanno il via controllando la documentazione di cinque aziende editoriali che saranno sorteggiate, ma l'obiettivo è allargare il raggio d'azione a tutti i 17 operatori del settore. È giusto che le risorse pubbliche restino nel pubblico. Le pratiche saranno affidate a due enti, a cui presto se ne potrebbe affiancare un terzo, l'Ordine degli Avvocati. Intanto l'Ordine dei commercialisti e quello dei consulenti del lavoro sono pronti a fare la propria parte. Nella convenzione che abbiamo firmato con Cimino andremo a rendicontare tutte le spese che gli organi di stampa hanno fatto e andremo a valutare chi c'è e chi non c'è, chi ci può stare e chi non ci può stare, chi lo ha fatto veramente e chi non l'ha fatto veramente. Il Presidente ci ha chiesto di mettere mani sui contratti su quello che è il nostro lavoro, quindi noi andremo a verificare la corretta applicazione della normativa in materia di lavoro. Lo faremo con la nostra commissione di certificazione che è un'attribuzione dei consulenti del lavoro, quindi avremo una dodicina di colleghi ben disponibili ad analizzare questi documenti, nel massimo della trasparenza e nella collaborazione istituzionale.